Le comunità energetiche sono un'opportunità importante anche per il nostro territorio. Voi su questo tema avete organizzato un convegno. Sì, un convegno molto importante che ha avuto anche un buon ritorno di iscritti. Siamo contentissimi perché le comunità energetiche che vengono sviluppate oggi in tutto il nostro territorio nazionale partono da una grande esigenza, cioè quella di combattere questa problematica che c'è anche in questo periodo legata al carro energia e quindi avere i condomini che saranno il cuore pulsante di questo nuovo progetto quindi che partirà tutto dai condomini, il risparmio energetico, la produzione di energia e l'autosufficienza per noi come amministratore di condominio è un grande motivo di orgoglio. Il condominio produce sostanzialmente energia, il condominio fa di tutto con interventi per esempio molto noti quelli del 110 con i super bonus, per esempio con l'installazione di fotovoltaico sul tetto quindi la produzione di energia che crea autosufficienza e anche in caso di esubero la vendita di questa energia ad altri soggetti. Si tratta di un'opportunità da valutare e da mettere in pratica. Come sapete il nostro gruppo è attivo soprattutto sul fronte energetico, sulle rinnovabili e in generale sul tema della sostenibilità nel quale facciamo certamente rientrare questa novità delle comunità energetiche che chiaramente siamo pronti a mettere a disposizione del territorio in termini dei competenze che possiamo avere pur dovendo ancora attendere qualche chiarimento dal punto di vista legislativo. Sicuramente è una grossissima opportunità, peraltro io sono sindaco anche del comune di Monticello Brianza e a Monticello è proprio dove è stata creata la prima comunità energetica del nostro territorio circa due mesi fa, quindi pochissimo tempo fa. È un'opportunità non solo per i cittadini privati ma con le contribuzioni che arrivano se è un ritorno anche sul welfare, sul sociale. Quindi è un lavoro dove le pubbliche amministrazioni e il privato possono lavorare insieme per generare un beneficio a favore di tutto il territorio.